Gente, a sto giro, niente introduzione, o meglio introduzione brevissima, perché il trailer di GTA 6 che doveva uscire più tardi, nel primo pomeriggio, è in realtà appena uscito pubblicato da Rockstar in questo momento, proprio un'ora fa, perché di fatto era uscito fuori tramite un leak. Quindi Rockstar ha semplicemente anticipato l'uscita. Già, proprio così. Quindi è già disponibile, lo possiamo vedere e tanti lo stanno già facendo, quindi pubblicherò questo video a un orario impensabile di notte, ma direi che è la cosa più appropriata da fare in questo contesto, tra virgolette, di emergenza. Quindi, signore e signori, dopo una lunghissima attesa, questo è il primo vero trailer di GTA 6. Vediamolo insieme. Wow! Molto bello! Molto organico! Ma è un motore di gioco, questo? Credo di sì, non lo so. Minchia, dai, mi pare difficile che sia un motore di gioco. Mmm... ... ... ... ... Isaperto Well, look who's back The only way we're gonna get through this is by sticking together being a team Trust Trust ok yes un minuto e mezzo esattamente come preventivato ragazzi eccolo qua il primo trailer ufficiale di GTA 6 la prima, primissima cosa che devo dire secondo me da questo trailer qualcuno resterà deluso per il semplice fatto che temo che si aspettasse di più allo stesso tempo però hanno mostrato tante cose ora, devo capire quanto quello che hanno mostrato è effettivamente una cosa realisticamente visibile all'interno del motore di gioco il che vuol dire che non avremo questa risposta a questa domanda credo ancora per un po' magari verrà fuori qualche altra informazione forse Rockstar rilascerà qualche piccola info per darci un po' di contesto ma è chiaramente mostrato a schermo Vice City e la nuova protagonista che è Lucia non so se sarà solo lei mo' vediamo e una storia di passato in prigione eccetera eccetera io non conoscendo bene tutto il tascorso e la lore di GTA mi devo fermare qua per quanto riguarda la storia il contesto eccetera quello che voglio dirvi però è che dal punto di vista proprio quello che ho visto sembra tutto veramente molto 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 bello non mi pare una cinematic tradizionale perché l'avrebbero fatta meglio se fosse una cinematic tradizionale allo stesso tempo però mi sembra irrealistico aspettarsi una cosa del genere dal motore di gioco vero e proprio come sequenze pienamente giocabili o magari scriptate mi sembra un po' esagerato quindi sono effettivamente nel dubbio ragazzi non so cosa pensare non so se ritenere quello che abbiamo visto una sorta di anticipazione di quello che effettivamente più o meno vedremo in game o come un trailer di presentazione più cinematografico che altro il contesto però c'è tanto tanto casino tanta follia tanto degenero per adesso questo è chiaramente questo quello che abbiamo visto guai con la legge tanto degenero tanto i party tante gare clandestine tanto alcol tante altre cose varie ed eventuali rapina vita criminale va bene insomma si tratta sempre di gta giusto quindi più o meno il tema è quello la città ci sono alcuni scorci che sono veramente stupendi ragazzi è per questo che faccio un po' fatica a immaginarmi una cosa del genere strettamente proprio in game però ha attirato senza dubbio la mia curiosità detto questo vi devo dire un'altra cosa posso dirvi che questo trailer è esattamente quello che mi aspettavo una breve piccolo scorcio proprio brevissimo scorcio di quello che è il vibe il feeling del gioco da questo trailer non capiamo come il gioco sarà veramente abbiamo un'idea dell'ambientazione dello stile del contesto ma non tanto di più come vi ho detto il mio grande dubbio è quanto dobbiamo ritenere cinematografico o in game quello che abbiamo visto mi sembra una sorta di via di mezzo ragazzi questo era dopo lunghissima attesa il primo trailer di gta 6 e oltretutto sì ovviamente c'è l'anno di uscita che però non è quello che mi aspettavo questo no è il 2025 c'era stato un rumor a riguardo che originariamente doveva essere un gioco uscito nel 2024 e poi è slittato nel 2025 a quanto pare era vero a proposito di rumor no e di leak perché evidentemente tutto questo è nato tanto dai leak ed è il motivo per cui stavo facendo questa reaction adesso così su due piedi e perché ne stiamo parlando comunque questo è il gioco ragazzi io temo che non si possa dire nient'altro e purtroppo anche questo un po' me l'aspettavo dovremo aspettare ulteriori trailer non so però con quale cadenza arriveranno e se il gioco deve uscire nel 2025 ragazzi abbiamo di fronte a noi probabilmente qualcosa come un anno e mezzo di informazioni che dovranno arrivare volta per volta ufficiali o ufficiose una cosa però penso che la possiamo dire ora si comincia ok diciamo che il circo inteso in senso positivo o negativo che come vogliate interpretarlo credo che sia ufficialmente iniziato da questo momento da questo primissimo trailer non si farà altro che parlare ci sarà sempre questo discorso riguardo a GTA 6 sempre lì in un angoletto che ci accompagnerà per probabilmente un anno e mezzo quindi che siate felici di questa cosa oppure che non lo siate affatto questa è la realtà in cui viviamo adesso probabilmente ok detto questo stanno per arrivare i game awards e di giochi belli probabilmente ne vedremo tanti e non mancherò certo di parlarne esattamente come parleremo di GTA 6 giustamente quindi fatemi sapere qual è la vostra impressione di questo trailer che cosa avete colto voi da tutto questo e beh ci dobbiamo per forza dare appuntamento al prossimo trailer chissà quando sarà ma ne arriveranno sicuramente tanti altri grazie a tutti mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon Instant Gaming e il link a Patreon e anche il link alla playlist con tutte quante le mie reaction e ovviamente tutti i link per il supporto e per seguirmi ovunque d'accordo ragazzi a presto a presto a presto a presto a presto